Loro non sanno che stanno già crollando, se ne stanno già andando, hanno fatto 196 partiti, simboli, 196 si sta scretolando tutto, il PDL che dice noi non vogliamo corrotti nelle liste, e chi cazzo si può? E chi ci mettono? Non c'è nessuno, quell'altro che scappa con le liste, come si chiama? Cosentino che scappa con le liste e dice io non ci vado in galera, ma stiamo scherzando, il PD che ha sciolto questo comune, perché il PD è esattamente come il PD meno L, il PD è uguale, hanno convissuto con questa ruberia per 20-30 anni, si sono scambiati l'acqua come Bartali e Coppi! Ma signore, signore, il centro, Rutelli ha detto il centro non c'è più, io mi ritiro di un anno sabbatico a dentro e vado a riposarmi, e che cazzo hai mai fatto nella tua vita per andarti a riposare? Allora, una cosa dobbiamo fare subito e immediatamente, sta già succedendo, mandarli tutti a casa! Questo è qualunquismo, questo è qualunquismo, è vero? Questo è qualunquismo, dato che c'è il TG3, per favore, al mio TG3 mi dovete gridare qualunquista, per favore, fatelo per il TG3, ci tiene! Uno, due, tre, qualunquista! Ora passiamo al canale 5 con le parolacce!